La nuova Peugeot 208 è eletta auto dell'anno 2020. La giuria del prestigioso premio, formata da 60 giornalisti delle più autorevoli testate della stampa specializzata europea, ha apprezzato il design dalla forte personalità, l'alta tecnologia e l'ampia gamma motori della compatta del marchio delle uni, con possibilità di scelta tra alimentazioni a benzina, diesel o 100% elettrica, secondo l'imperativo power of choice della casa. Se sta Peugeot a conquistare l'ambito titolo, la 208 è subito diventata una best seller della categoria, anche in Italia, dove sta riscuotendo uno straordinario successo sulla via iniziata negli anni 80 dalla leggendaria 205. L'Unione Italiana dei giornalisti dell'Automotive ha assegnato al nuovo Peugeot 2008 il titolo di Auto Europa 2021. Oltre a quello dei soci Wiga, all'attribuzione del premio ha concorso anche il voto di una giuria di opinion leader e di una giuria popolare, che hanno riconosciuto il livello tecnologico di categoria superiore e lo stile innovativo del SUV compatto del marchio del leone. A fare la differenza con i modelli della concorrenza, anche la possibilità di scegliere tra motorizzazioni benzina, diesel e 100% elettrica. Peugeot è attualmente leader nel mercato europeo dei SUV medio compatti, con i 3008 e 5008 che nel 2020 hanno raggiunto performance semplicemente straordinarie a livello globale. Oltre 110.000 esemplari venduti finora in Italia, il premio di auto dell'anno vinto al debutto da 3008 e sempre da parte di quest'ultimo le due vittorie alla Dakar. Oggi entrambi i modelli si rinnovano in diversi elementi. Punti in comune sono la personalità del design, la raffinatezza tecnologica e la funzionalità di un abitacolo che permette di ospitare fino a 7 persone, nel caso di 5008. Forte personalità distintiva e innovativa e poi, come un leader deve fare, alzano ancora più l'asticella di ciò che è lecito aspettarsi da un prodotto di questo tipo. Sistemi ADAS al massimo livello consentito dalla legge e l'esclusivo Night Vision per viaggiare nella notte, nel massimo della sicurezza. Tre i livelli di allestimento, Active, Allure e GT, ciascuno arricchibile con un pack specifico. Nuovo 3008 declina poi alla perfezione il power of choice, grazie a motori benzina, diesel, ma anche ibridi plug-in ricaricabili. Il massimo della tecnologia oggi disponibile sul mercato. Paolo Andriucci ha conquistato il campionato italiano Rally 2 ruote motrici 2020 al volante della nuova Peugeot 208 Rally 4, protagonista di una stagione alquanto complicata. Quattro vittorie su quattro gare disputate per il pilota toscano, affiancato da Anna Andriussi, che ha saputo sfruttare al meglio le qualità di una vettura, erede della precedente 208 R2B, che si è dimostrata subito altamente competitiva nel solco della migliore tradizione del marchio del Leone nei rally nazionali e internazionali.